Sono l'agente Coulson dello SHIELD e voglio informare tutti coloro che ascoltano quelli di Radio Brea che Jay e Silent Bob hanno violato i protocolli di sicurezza di livello 7 fornendo erba pipa al signor Tony Stark e al dottor Bruce Banner con le conseguenze che, beh, potete immaginare. Da questo momento i conduttori di quelli di Radio Brea sono sotto custodia del direttore Fury. Tahiti è un posto magico.